Sanzone, ti facendo la pappa, eh? Sanzone bravissimo, vive con altri cagnolini, c'è anche Sakura là dentro, vero Sanzone? Sta mangiando la pappa adesso Sanzone, vero amore? Un ursonne grande grande, ecco Sakura, anche lei è buonissima, ma grazie eh, dovrebbe ragazzi Sanzone, ho scelto il momento sbagliato per fare il video eh, sì, Sanzi, Sanzone, Sanzonite per gli amici, sì sì, Sanzonite, eccolo qua, in tutto il suo splendore, oh, te, guarda che ti do, guarda tutti assieme, lui va d'accordo con tutti, questi sono due maschi, poi vabbè questa Sakura che è femmine, lui, ok? E?